Supponiamo quando la nostra vita non sarà più, e cioè quando noi saremo niente, e penso che questa sia una convinzione abbastanza diffusa, che noi siamo stati niente e torneremo ad essere niente, ma è questa convinzione la pazzia. 17 gennaio 2020. Muore Emanuele Severino. Filosofo, membro dell'Accademia dei Lincei, concentra il suo pensiero sul tema dell'essere, arrivando a postulare che le cose che sono esistono sempre, anche al di fuori del loro apparire, e che quindi ogni pensiero, ogni cosa, ogni attimo, sono eterni. Grazie a tutti.